Ragazzi siamo tornati con quel team di skin rarissime che ci aveva distrutto ragazzi ve lo ricordate che ci avevano fatto mettere Non mi ha fatto dormire la notte quel team del cacchio Ragazzi calmi ho una soluzione guardatemi bene Ragazzi sapete cosa vuol dire quando una persona diventa viola Che ha qualche problema con la pelle Che uso le hack ragazzi avete proprio capito bene E oggi li andremo a utilizzare contro di loro Ragazzi fidatevi che oh porca ma che tanto loro sono già partiti hanno già buildato un impero eh Però sappiato ragazzi Non mi ricordo male questo caso tipo straforte No ragazzi 143 a 1 Mi hanno cecchinato malamente ragazzi Con un colpo solo? Con un colpo di tre colpi Che scarse zio Che scarse cosa ma sono fortissime sono sono assurde queste hack fermi ragazzi allora Hai ragione no quello scarso sei tu scusami fra Ma che cazzo vabbè senti faccio finta di nulla guarda allora ragazzi state tranquilli questa volta saranno loro a non dormire la notte Perché li mangeremo e manca pure beh siamo pure in uno in meno ragazzi ma ripeto con queste hack state veramente tranquilli Allora uno in meno che ci farà vincere Ok fermi fermi ok Hai morto 222 gli ho fatto Mamma mia miseria zio Ragazzi solleate le assurdo 301 No raga raga non avete idea Non avete idea Mi giuro che raga Stanno spagando tutto raga Sì io sto provando a far cadere tutto ragazzi mi sa che ce l'ho fatta No 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 scendi 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 Tutte persone che non sia l'altro Ok ok ho uscendo ragazzi Ragazzi non so scendere Ragazzi non so scendere Ragazzi non so scendere Ragazzi non so scendere Mi hanno distrutto malamente ragazzi Laserato Ho collegato tutto Ho collegato tutto Ho collegato tutto Ragazzi in occhillato un altro ma li sto laserando troppissimo Mamma mia Cioè per me No 180 No per me Troppo forte Straa Non mi vado a morire Per almeno Sto mi sparando me Ragazzi Sì Ragazzi manca un colpo fidatevi di me Oh Che c'è che c'è che faccia No raga No vabbè Ragazzi calmatevi Calmatevi Ve lo giuro che ci sgamano troppo facilmente se continuiamo così Allora raga secondo round Già adesso vorrei sentire loro cosa dicono Ragazzi andiamo cattivi Andiamo cattivi Ce li facciamo easy Ce li facciamo easy stavolta L'unica cosa che so ragazzi È che qua veramente ragazzi Voglio un 5 a 0 Ci sono 5 round Voglio un 5 a 0 minimo Allora Parto magari di dare una bella cecchinata Così la gente non pensa male Oh Ti attento che poi ti arriva la tela cecchinata Ragazzi Dobbiamo ricordarci comunque Che questi qua sono tutti pro player Perché se per sbaglio Facciamo finta di nulla E ci distruggono Quindi state molto molto attenti Ma che poi loro sono molto scarsi Come facciamo a perdere dai Molto scarsi Che cavolo sta dicendo Sono fortissimi Sti plece Oh Non c'è nulla Però ragazzi tranquilli Lo cecchinato in corpo Però mi ha dato come se l'avessi preso in testa Perché ovviamente toglie tantissimo Quindi Tranquilli Cosa dicevi comunque E non lo so che questi che usano le altre Cioè su scherzi Ma usano le altre Un altro Caio morto Caio morto No no Continua a parlare Che forti fortuna a ferro Eh beh va bene No no ma per russi qua usano le ac Distrutto un altro Almeno se volete parla ancora Allora questi qui usano un botto di hacker E oh Vabbè Vabbè Funziona veramente Secondo fermi Il parlare di po' Se non sbaglio Non c'è neanche il danno da caduta Porca vacca No sì che ce l'ho quello Non per morire sinceramente Allora Ragazzi siamo contro due Siamo contro due Dovete far qualcosa anche voi Perché sennò qua Stanno pensando troppo male di me Fermi che ci muoio Va bene lo vado a pushare Vado ancora a dire che Che usa le anche Chi vuoi Fermi che ci muoio ragazzi Simmi che ci muoio Oh vai spalla Sai per un attimo Devo morire Non devono pensare che uso Euro Ok No 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 Lei è piccola No sei scherzato per l'ultima si è amato subito non mi hanno appicconato ma la mente ok sono morto al mio su morta che si morita perdete ragazzi non vedete lanciate se le morti non mi morire già può push arci ma guarda questi penso che sia la cosa migliore rocket light j rock e train in questo è meno se mi metti muri davanti piccio meno male che siamo in squadra insieme perché sono se mi avessi colpito mi incavolava in un poco allora ragazzi venite avanti con me venite avanti con me che fu il box o tutto qua state tranquilli se di una volta che facciando abbiamo aperto meno regalato ora di che non posso vincere un uno contro quattro e sarebbe troppo e le ac porca miseria si è più forte no potrei farcela ma sarebbe un po troppo antisgamo c'è quello che intendo sinceramente quindi fermo fatemi intanto villare una persona e fatemi magari prendere il gioco no 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 sono contento meglio morì può muovi perché almeno perdiamo e facciamo finta che sia tutto normale 377 crack a poi poi basso spingi mi spingi mi dietro vai bravo poi morto comunque rega mi sentite senti sentiamo che siamo migliorati tanto vero ma tanto è possibile come non è possibile ragazzi io vi sto facendo solo 220 in testa lega sto distruggendo infatti avete mangiato le barrette proteiche ci siete diventati delle bravo abbiamo mangiato barrette proteiche qualsiasi cosa facesse bene per migliorare la mira la vista e farci diventare un po più rosa non so perché aspetta che accendo il monitor e ora vedi accendi il monitor va bene va bene adesso mi rimuto e vedete a dopo ragazzi rega ve lo dico ci stanno cascando di brutto anzi voglio ancora fare di più i figli e tipo dicono vabbè guarda che accendo il monitor sapete no classiche cose certo sì di chi dici le cacchiate insomma sai adesso cosa gli faccio un 141 un corpo con la r adesso voglio vedere se mangiano ancora dicono delle barrette protege io non abbia distrutto uno con l'arco è un porca vacca io invece o no non avevo parlato non avevo parlato fermi non avevo messo le anche ragazzi porca mano zio se un piccio si tra quelli non c'è tra qui da me cacchio ragazzi tra iardo al massimo vin con 4 contro 1 siete pronti il problema che ragazze strano perché ok 141 ragazzi io me ne vado e che ce ne andiamo perché potrebbe essere un po antiso 138 134 penso mi abbia fatto tipo una cosa come trading potete non morire da l'osso esatto che avrete vergognati se decida no 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 ma il fatto è che non sarebbe neanche male mi uccidesse per cammino sarebbe antiso ma non c'è tipo un hack della vita che ti fa andare a 500 milioni di vita non è no no non hanno curato sono molto molto meglio forse meglio perché ho dato uno scherzo non voglio perché non voglio morire fare all'impresa ferro no chi lo so non lo so sì fermi ragazzi muto gli dico che gli ho fatto 3 perché se non ci credono raga 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 scusatemi un attimo se mi interrompo vi ho fatto 10 e shot a tutti scusa ma sei un drago della siberia stava arrivando mi hai fatto 3 no 4 è il 14 e anche contando anche gli altri 5 no vabbè ragazzi comunque ragazzi 3 a 1 è qua io voglio chiudere la situazione qua 3 a 1 stiamo adesso c'è l'ultimo round vedete tra i azzarla a dire gli altri che sanno da dire perché poi l'unico che si è allenato sito a quanto pare anche gli altri comunque continuiamo ragazzi ultimo round un ferro atterrato uno solo tipo troppo forte senza le ha pure mamma mia mi avevano appena detto le ac sono le mie mani che sono appena andato a sentirli mi hanno detto che gli altri non si sono allenati mi sono allenato solo io quindi ho un dissing a voi ragazzi ma con del marco assurde adesso me li mangio guardate mamma mia no ragazzi qua hanno bevuto anche il succo di pera c'è ok ragazzi di solitario è stato oltre 132 no ragazzi ve lo giuro che è mostruosa questa cosa questa acqua sono le più forti che abbia mai visto per prendere ho vado 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 ad aiutarti o 100 100 100 rf 100 rf sopra 100 rf sopra no ragazzi basta non è possibile ma rega veramente usa qualcosa non è possibile raga raga mi stanno pushando per favore una mano al vostro arrivo arrivo il mitico refe allora guarda faccio faccio una provata della vita adesso è salvo al massimo e gli tiro due headshot con la mitraglietta ma questi sono dei codardi sparando dietro che faccio dai in che senso ma ragazzi però troppo illegale questa per me ci sbaglia ragazzi ma veramente siamo riusciti andare a perdere con le ac easy win va bene ragazzi direi comunque 3 a 2 per noi quindi abbiamo vinto i primi round intanto ho fatto io 13 milioni azioni più di tutti voi messi insieme ci tengo a sottolinearlo ragazzi ma ma erano i round di riscaldamento bravo perché adesso facciamo gli ultimi cinque round la manetta vi voglio e vi voglio ragazzi cioè comunque fate abbastanza schifo ci tengo a dirvelo perché è abbastanza schifo abbastanza schifo che è quello che ha perso l'altra volta la prima è dei bambini si sa l'altra volta che l'altra volta abbiamo perso voi come ha detto il tuo amico la prima è dei bambini e questa qua invece dei grandi ai ragazzi facciamo meno di discutere torniamo in partita che parleranno i fatti anche se purtroppo ragazzi i nostri fatti sono averle hack però va bene ragazzi facciamo finta di nulla mi sentite voi stai parlando con noi chi ma parlando di farmi sono mutato non mi chiedo gli altri ma io vorrei dire parlando con il pubblico a casa no non si sa mai che è fatto ok volevo provare ragazzi questi comunque sono molto bravi quindi calmi e attenti mi devo curare far finta di nulla se mi tocca per sbaglio se vuoi un cavaccaro ragazzi no ma dai ma non ci credo ma morire per favore è morto di sei è morto di sei andiamo ragazzi che molto ragazzi allora rega ho un'idea facciamo così uno di voi utilizza l'ati in questo momento va bene buon balla balla mi calmi calmi ragazzano io devo far finta di essere un po più normale intanto ragazzi stiamo tre pari e quindi stiamo molto attenti allora rega seguitemi seguitemi a mille perché dobbiamo distruggi quali in volo scontro uno distrutto uno il volo ragazzi di scuole vola unità uno di vittoria mentone dai re per una parola creato per sbaglio un colpo gli fatto 141 esatto conto che le ac sono veramente forti comunque allora rega me lo dico è voglio cecchinarne uno no per pochissimo per un pelo allora rega a pushare un dato chilo il tizio terra agli anni mi hanno aperto ragazzi c'è un piccolo problema ma tranquillo tanto c'erebbe con le app giusto ne è vero è uno scarto ragazzi magia di se l'avesse avuto e best guarda lato positivo almeno è vero aiuto re che mangiare è colpa direi che ne ho terrato una siamo due contro uno ma sono da solo ma non è che sta guardando le costruzioni non ci credo quando è simpatico ferro non è simpatia veramente fai schifo ripeto devo dire pure io direi mi ha le qualità no porca macca su le tale full vita ma ma zio ma zio ma è vero c'è uno di vita adesso hai fatto la tua lavoro allora un giugio dietro i media di me ferro mi sono già questo è bravo è stato attento e tu vuoi tu ozio e invece noi mio un colpo di mitraglietta distruggire tutte le strutture messa in realtà due colpi di mitraglietta ragazze è uno e mezzo facciamo due sono due se mi arrivo come a uno di vita uno di vita esatto ok perfetto bellato di lato senza che ragazzi vedete qua appena per iniziare a dare anche senza tutto è più facile che mi distruggiamo pure quello ma io devo avere proprio il due colpi ok perfetto il lato pure questo che ha fatto di nuovo a 2 di non perdere ok l'ho preso pure io volevo io faccio centro 31 io faccio 139 scusami volo quindi piccolo problemina per lui sicuramente fermi uscite anche questo così ragazzi voglio no 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 poi aiutami ferro aiutami vai attenzione la serata la serata fai bianco 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 ferro a bianco ferro come va 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 si 139 ragazzi vi ho demoliti i poverelli al momento di tornare lo bisbularli loro lo scherzo che se purtroppo penso sia scontata la cosa ma voglio sentire ferro vuole sentire ferro che si smuta a ragazzi è stato semplicissimo demoliti vi abbiamo ma io mi chiedo ma veramente ragazzi non l'avete ancora capito quanto siamo più forti di voi ma guardate voglio voglio la vendetta come l'avete voluta poi la scorsa volta la voglio io questa volta la vedetta tu veramente non l'hai ancora capito se i bix sono molto più forti noi avete vinto solo a fortuna veramente non ve ne siete accorti ma ho utilizzato le hack tutto il tempo ma come no scusatemi veramente non ve ne siete accorti poi io pensavo fosse un bug la cosa delle build veramente ci avete creduto ma almeno chi non mi deluditi rega ma ma che cavolo io pensavo ma vi siete fatti umiliare a piccone e ci avevate pure le hack ma aspett ce l'avevo solo io prima cosa seconda cosa molte volte l'abbiamo fatto apposta si sentiamo quello del muro non era un bug ma no che non era un bug era tutto inventato per farvi credere ecco perché c'è one pampava tutte le volte oppure poi miglietta ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciato un bel ai cozzo iscrivetevi al canale ovviamente codice ferro nel negozio oggetti per supportarmi al massimo rega ci vediamo nel prossimo video bella a tutti